Poracci bentornati o benvenuti sul mio canale. I rumor su una possibile revisione di Nintendo Switch, una versione Pro in grado di estenderne il ciclo vitale, si fanno sempre più insistenti. Molto spesso si tratta di sparate senza un fondamento, altre volte di speculazioni interessanti su quelle che potrebbero essere le mosse nell'immediato futuro della grande N. Quello che è certo è che l'azienda di Kyoto sarà costretta nei prossimi mesi a svelare le sue strategie per fronteggiare il cambio generazionale intrapreso dagli altri big del settore, con Xbox Serie X e PS5 in uscita questo novembre. Ed è così che a seguito dell'ultimo incontro con gli investitori, i proprietari delle azioni hanno iniziato ad ipotizzare che Nintendo possa adottare un modello commerciale estraneo al settore dei videogiochi, che l'avvicinerebbe molto ad un altro colosso, Apple. Prima di capire per bene il senso di un cambiamento così radicale e le implicazioni che comporterebbe, come al solito vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Sebbene Nintendo stia vivendo un vero e proprio periodo d'oro, con la Switch che registra numeri incredibili per quanto riguarda la vendita sia di hardware che di software, gli ottimi risultati non riescono a placare l'inquietudine della platea degli investitori. Gli azionisti infatti non ripongono molta fiducia nell'azienda per svariati motivi, un po' perché raramente condivide in modo chiaro e preciso i suoi piani a lungo termine, creando così un clima di incertezza non certo rassicurante, ma anche perché, come la recente storia ha insegnato, ogni passaggio generazionale chiude effettivamente un ciclo, azzerando la base installata e potenzialmente anche la capacità di generare profitti. Se il valore delle azioni di Nintendo è in crescita esponenziale, non è detto che l'ottima salute di cui gode l'azienda continui anche con il successore di Switch. Insomma, chi investe tanto nella casa di Kyoto sa che per ogni Wii esiste anche una Wii U e il tracollo è sempre dietro l'angolo. Per questo, come riportato da Bloomberg, durante l'ultimo incontro con gli azionisti il pubblico ha iniziato ad ipotizzare il passaggio a un modello economico ben diverso, quello di Apple e del mercato degli smartphone. Secondo gli investitori, l'unico modo per garantire una continuità di vendita è quella di abbandonare il concetto generazionale di console e passare a una formula annuale ispirata direttamente alle gesta della società di Cupertino. Apple con il suo iPhone ha creato un brand immenso, conosciuto in tutto il mondo e costantemente ogni anno ne presenta un nuovo modello a numerazione progressiva, che nonostante il marketing e qualche effettiva novità si pone in netta continuità con le versioni precedenti. La linea evolutiva permette di mettere sul mercato nuovi device senza allontanare l'utenza, che al massimo può decidere di fare un upgrade per godere dello stesso tipo di esperienza ma in modo più performante. Apple ha creato un vero e proprio ecosistema che non ha bisogno di rivoluzioni per invogliare all'acquisto, ma anzi si appella proprio al concetto di familiarità e di riconoscibilità del brand per stimolare i suoi utenti a rimanere sui suoi prodotti. Per gli investitori Nintendo, ora che è stata in grado di installare una base mostruosa dei Switch, una console che in poco tempo è diventata l'anello di congiunzione tra il mercato mobile e quello degli hardware fissi, non deve assolutamente abbandonare questi lidi, ma anzi iniziare a puntare ancora di più sul concetto di revisione piuttosto che di cambio generazionale. Azzerando i rischi del salto nel vuoto tipici dell'ideazione di una nuova console, Nintendo non dovrebbe far altro che ancorare definitivamente la sua utenza all'idea di una Switch in continua evoluzione, progettando piccoli miglioramenti non volti a rivoluzionare il gaming, ma semplicemente ad attualizzare un'esperienza già consolidata. Questo significa che una Switch Pro non diventerebbe un hardware mid-gen pensato per allungare la vita della console per un altro paio di anni, ma solo il primo tassello di un progetto proposto a cadenza annuale. In fondo, Nintendo sin da subito si è mossa in una direzione simile. L'anno scorso, con la Lite, ha introdotto il concetto di Famiglia Switch, una console declinata in due versioni, entrambe pensate per un pubblico ben definito. Espandendo e regolarizzando le tempistiche di questa filosofia, potrebbe effettivamente puntare a stravolgere le logiche commerciali del mercato videoludico, abbandonando definitivamente la corsa generazionale in cui sono incastrate Sony e Microsoft e che ormai la vede in netto ritardo rispetto alla concorrenza. Si tratta di una prospettiva molto interessante, anche se credo ci sia una criticità che andrebbe presa in considerazione. Il passaggio generazionale non è solo un azzardo che può resettare completamente gli equilibri del settore, ma è anche una necessità, un passaggio obbligatorio per giustificare una spesa sostanziosa che deve essere accompagnata da un incremento radicale delle prestazioni dei nuovi hardware. Smartphone e console non sono prodotti dello stesso tipo. Esagerando si può dire che i primi sono ormai considerati un bene primario, uno strumento imprescindibile per vivere all'interno della società moderna. Le console da gioco, e in particolare Switch, sono percepite in modo ben diverso e rientrano nella categoria dello svago e dell'intrattenimento. Se le persone sono disposte a spendere 4-500 euro l'anno per aggiornare il proprio cellulare, difficilmente affronterebbero a cuor leggero una spesa analoga per una console che già possiedono. Insomma, penso che come proposta sia sensata, ma ancora lontana dalla realtà dei fatti, soprattutto se applicata a una console che non ha funzioni smart, né è interessata ad andare oltre le funzioni basilari del gaming. Credo quindi che la Switch Pro sia una realtà concreta che verrà svelata a breve e che servirà a Nintendo per progettare con più calma la sua prossima mossa. Con un mercato in rapida evoluzione e l'hardware che perde sempre più la centralità a causa dell'avvento del cloud gaming e di servizi in abbonamento come il Game Pass, è difficile prevedere quale sia la strada migliore da intraprendere, anche per un'azienda in una posizione così privilegiata come Nintendo. Per questo vi chiedo, voi poracci, cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Nintendo convertirsi al modello smartphone o preferireste rimanesse ancorata a una più tradizionale concezione di generazione di console? Ma soprattutto, quando annunceranno questa benedetta Switch Pro? Come al solito vi aspetto nei commenti, prima di salutarci vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il poro iPhone, Michele Pro Max, ciao!